Il grosso dopo un mese di preparazione a che punto è la squadra? A un buon punto, nel senso sapevamo che era una cozzaglia di nuovi giocatori, però il lavoro che è stato fatto finora è quello che era nelle aspettative. Vedo che il gruppo, ed è la cosa più importante, si è già creato, quindi vedo già un bel ambiente, un bel gruppo, ragazzi che stanno bene insieme. A livello tecnico ci penserà Mr. Calori e quindi domani facciamo quest'altra amichevole, mercoledì abbiamo un'altra, servono tutte ovviamente per provare a giocare insieme, quindi le amichevole sono fatte apposta. Però diciamo che l'obiettivo principale è stato raggiunto, è stato quello di creare un buon gruppo che c'è già. Senta, la prima partita ufficiale si giocherà in notturna da quello che abbiamo compreso? Sì, lo do quasi con certezza perché c'è già l'accordo con il Figline, giocheremo alle 20.45 al Brilli Peri. E con gli obiettivi che vi siete prefissati? L'obiettivo che mi ha chiesto la società è che quello che noi dobbiamo portare avanti è quello di fare una squadra, una base di squadra. Ovviamente vogliamo stare alla sinistra della classifica, vogliamo fare meglio che possiamo, però l'obiettivo è quello di creare un gruppo squadra dove puoi lavorare negli anni successivi magari per poter raggiungere anche qualche obiettivo più importante. C'è attesa anche per la ufficializzazione del girone e anche del calendario perché insomma sta diventando un po' la novella dello stento. Sì, perché poi dopo tutti fanno ipotesi, ma secondo me non ci saranno grandi novità. Io mi aspetto il girone che è Tosco, Romagnolo e Umbro, secondo me sarà questo. Però poi cambia poco perché tanto dipende da noi, dipende da quello che facciamo, qualunque esso sia il girone.